Grazie Francesco, grazie a Chioto Club, grazie a tutti gli organizzatori. Io cerco di essere pragmatico come solitamente cerco di essere. Ci conoscete, sapete perfettamente quanto il Movimento 5 Stelle abbia tra i suoi pilastri le rinnovabili, l'efficienza energetica, la salvaguardia del clima, per cui do per scontato questa parte del discorso, la tralascio, credo che sia assolutamente nota e credo che abbiamo agito in coerenza con il nostro programma in questi 4 anni e mezzo di legislatura. Primo anniversario della COP21 Parigi, ovviamente un passo avanti, ma attenzione l'UNEP ci dice chiaro e tondo che non è un passo sufficiente. L'UNEP ci dice che anche se tutti i Paesi rispettassero gli impegni presi, cosa assolutamente non scontata e per il momento non è avvenuta globalmente, noi comunque toglieremo un terzo delle emissioni di anidride carbonica che ci serve togliere per raggiungere l'obiettivo dei 2 gradi centigradi. Poi naturalmente l'UNEP indica quelle che sono le soluzioni, le solite, le sappiamo, efficienza energetica, energie rinnovabili, afforestamento, blocco della deforestazione, blocco delle centrali a carbone, insomma i temi li sappiamo. Cioè sappiamo da molti anni che i problemi tecnologici pur presenti sono assolutamente risolvibili, il problema non è tecnologico, però quello che stiamo facendo in Italia non è assolutamente sufficiente. Io mi rivolgo soprattutto a chi ci sta ascoltando per radio e in web tv che quando si parla di clima e di queste questioni si parla soprattutto di posti di lavoro, di creazione di posti di lavoro. Noi siamo alcuni anni che abbiamo proposto il nostro Green Act, visto che il Green Act annunciato dall'ex Presidente non è mai andato in porto, noi è da anni che proponiamo il nostro Green Act che con i dati delle associazioni di categoria, quindi dati non nostri, quindi non sono fake news, ma sono dati delle associazioni di categoria, ammonta a ben oltre un milione e mezzo di posti di lavoro con dati delle associazioni di categoria. Noi non stiamo facendo assolutamente il necessario, la Sen è assolutamente timida pur compiacendoci del fatto che due settimane fa sono venuti a renderci noti dei suggerimenti che sono arrivati con la procedura appunto di dialogo pubblico e siamo molto contenti che quello che prima noi dicevamo e ci davano un po' per matti, cioè di anticipare a 2025 la chiusura delle centrali di carbone, adesso probabilmente lo inseranno sulle Sen. Sono contento di aver letto che il Governo ha intenzione di posizionare 19.000 colonnine per la ricarica elettrica entro il 2020, siamo rimasti talmente stupiti che abbiamo pensato inizialmente fosse un refuso di stampa, ma invece è così e quindi ci fa molto piacere. Siamo d'accordissimo, la mobilità elettrica non è la soluzione complessiva, fa parte di un tassello della mobilità sostenibile, naturalmente il trasporto pubblico deve essere molto molto più efficiente, assolutamente sì ci mancherebbe altro, però sappiamo anche che la mobilità elettrica ci serve per chiudere il pazzo delle rinnovabili perché le auto elettriche diventeranno uno dei sistemi di accumulo più potenti e qui ci agganciamo anche, venendo nel pratico, al tema delle competenze politiche perché la politica non riesce a stare dietro alla tecnologia, non è possibile che determinati colleghi anche con ruoli molto importanti non siano assolutamente convinti per esempio della tecnologia V2G che appunto è la bidirezionalità delle colonnine che serve per aiutare moltissimo il bilanciamento del sistema. Quindi noi siamo in una situazione di, scusate il termine, ipocrisia politica, perché da una parte si dice facciamo, facciamo, siamo d'accordo, siamo d'accordo, dall'altra parte non si fa. È stato citato più volte Papa Francesco, Papa Francesco nella sua enciclica, nella sua enciclica dice chiaro e tondo che l'ipocrisia è il male del secolo e lo dice Papa Francesco, quindi presumo che anche questa non sia una fake news. Allora noi abbiamo negli ultimi tre anni che segnano il completo fallimento della politica italiana perché abbiamo meno 12% fer, produzione di fer, negli ultimi tre anni meno 12% produzione di fer, più 14% produzione di fossili, parlo di elettricità, parlo di elettricità, più 8% emissioni di CO2. Con questi tre dati io potrei chiudere, alzarmi e uscire perché questo è il risultato della politica degli ultimi anni. Meno 12% fer, più 14% fossili, più 8% CO2, dati della produzione elettrica. Abbiamo un ecobonus che ancora una volta, nonostante tutte le parti politiche dicano è una misura win-win, nonostante sia stata votata all'unanimità la mozione al Senato che dice impegna il governo a renderlo stabile, ancora una volta in quest'ultima misura ugualmente verrà prorogato per un anno solamente. Nonostante tutti sappiamo, tutti spingiamo, tutte le parti sociali, dalle banche a Confindustria, tutti dicono è una misura win-win, quindi non si capisce, o meglio, ribadisco, siamo in tema di ipocrisia politica. Qualcuno l'aveva anche citato, l'assurdità che abbiamo edifici con l'impianto sul tetto e non possono distribuire nelle utenze sottostanti, nelle utenze vicine, devono rimettere in rete la produzione. Noi sono due anni che spingiamo per riammettere gli SDC e il governo, all'atto della votazione dell'emendamento in proposito, ha fatto approvare un ordine del giorno, ha fatto ritirare un emendamento simile da una mia collega PD, l'ha fatto trasformare in ordine del giorno, ci ha detto chiaro e tonno, ci sono i resoconti dei verbali di commissione, che tecnicamente avevamo ragione, ma loro avevano in mente un disegno complessivo globale, quindi votavano per quella ragione negativamente all'emendamento. Ci avevano promesso questo rifacimento totale entro gennaio di quest'anno, siamo a novembre, ancora non l'abbiamo visto. Siamo gli ultimi sul tema della mobilità elettrica, abbiamo un numero di auto che è dieci volte inferiore la media europea delle auto. Quindi in buona sostanza abbiamo da una parte la politica che dice facciamo determinate cose, dall'altra invece pone ostacoli per efficienza e rinnovabili, e invece dà ancora ulteriori aiuti alle fossili, perché ricordiamoci sempre del discorso della sblocca Italia, che non è lontano 65 milioni di anni, dove è? Non è lontano 65 milioni di anni, ma la sblocca Italia è di pochi anni fa. Quindi la questione della salvaguardia del clima non è assolutamente un problema tecnologico, gli studi di settori si sprecano, le soluzioni tecnologiche si sprecano, il problema è solamente politico, che soprattutto per quello che concerne la politica italiana è assolutamente in controtendenza. Ha appena parlato il dottor Mori, e mentre lui parlava a me veniva in mente, sì ma dottor Mori, maledizione, l'Enel va a fare impianti soprattutto all'estero, quasi tutti all'estero, perché qui in Italia non ci sono le condizioni. Cioè ricordiamo in Italia negli anni passati abbiamo installato una media negli ultimi tre anni, una media di 300 megawatt fotovoltaico. Prima Giuseppe Onufrio diceva che nel 2011 avevamo installato 11.000 megawatt, con prezzi che erano 4-5 volte più alti rispetto ai prezzi attuali. Certo c'erano gli incentivi, però i prezzi erano 4-5 volte più alti rispetto a quelli attuali. Adesso negli ultimi tre anni abbiamo installato una media di 300 megawatt. Cioè è uno sputo, è uno sputo. E il risultato è appunto che sono tre anni che la produzione complessiva di elettricità da fonti rinnovabili in Italia è in calo. Quindi abbiamo una politica che proprio non sta minimamente facendo il suo lavoro. Vuoi per incompetenza, vuoi per altre cose. Scusatemi l'aggancio che faccio con la commissione banche, visto che è un mese che faccio parte anche della commissione banche, e anche le banche sono la chiara dimostrazione che la politica negli ultimi vent'anni è stata come minimo incompetente e poi il resto lo vedrà eventualmente la magistratura. Quindi la strada maestra è sempre la solita. Dobbiamo cambiare un sistema energetico che in questo momento è centralizzato, passare all'autoproduzione, al decentramento e alle fonti fossili e all'efficienza energetica. Diceva bene prima la dottoressa, la miglior centrale, anzi chiacchia citava la frase di Rubbia, la miglior centrale è quella che non si costruisce, il nostro maggior giacimento energetico è il negavattora, quindi chiaramente il risparmio energetico, però anche in questo settore, ribadisco, siamo totalmente in controtendenza, altro che Deep Renovation come da anni auspica Silvestrini. Qui abbiamo una normativa in tema di efficienza energetica che fa dire alla stessa Enea in tema di normativa sull'efficienza energetica sfidiamo chiunque a capirci qualche cosa. E chiudo con lo studio che ha fatto uscire Enea due giorni fa, quindi anche qua vorrei anticipare eventuali polemiche, non è fake news perché sono dati di Enea, con Enea che dichiara testualmente che